effettivamente senza microfono ma è che lo levo e ascolto perchè non c'è il microfono anzi guarda non ti sento l'audio l'ho cancellato perchè non si sente l'audio però aspetta la cazza può spostarsi ah no allora ho aumentato il guadagno l'ho messo un po' più alto anche voi ci abbiamo più dei due a meno male che è finito subito l'episodio che se no non è che ah 200.000 ma io pensavo che c'eravamo 10 10 10 aiuto come sei? l'ho guadagnato tutto 2 allora io sono il primo io sono il primo quadro Andrea cioè in ordine alfabetico Andrea zitto sto a parlare io Andrea Daniel Edoardo e poi Matteo a buttare e quindi io sono il primo Daniel è il secondo Matteo è il quarto e io chi è che mi ha aggiato la granata 10 1 800 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 8 11 12 12 6 6 7 8 7 8 9 10 9 10 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 Te ricordi? Mamma mia Ma che era che non riuscì a puggiare? No ero io No che chiede Ma pure io Chi era era? L'RBT No io Io ho perso l'arma mi ricordo Andavo avanti e mi era avanti Vabbè la come da dietro? Da dietro veramente Oh che era? E' Daniel Ma è piccolo Perché è il 2 Da dietro regà Stanno molestando Stanno molestando per me Ok So sovravvissuto non mi chiede Da dietro eh Da dietro Cioè da dietro Ma mi accide Ok Ma è da dietro Daniel Da dietro Ci stava qualcuno di loro di me C'è finita andata Nè infatti Oh perché non rivivi Ok Ti ti metto una dose di coca spontanea Dove sono andata? Dove sono andata? Dove sono andata? Certo c'è un po' di fogo però 689 e isgamer Ogni tanto me lo so Eccolo così Lezzo Lezzo Musuna Aiutami A passare Ho sfido Guarda qua Assassin's Creed Mi sta da rende contro la gente qua fuori Posso far paga punch Eh si Che cazzo Ancora non mi confondo No volevo dire Qualcuno mi aiuta Grazie C'è me ne copre UREGAN Sei col cazzo? No Ho visto Lei me Non mi Eh Sempre mai do niente Cioè E che palle Ma dai Sicilata Faccia gradatore Forco Che culo Guardo ragazzi Non sto a fare la baricata Che No Non sto a fare la baricata Perché so Sono un puto Non è realmente da andare a vedare la Ah Guarda qua Ti vado a fare la baricata No è vero Se ti andrà Vai Se no ti la perdi Che ti andrò Guarda lui Guarda lui No se Chi è che prendi soldi no Matteo? Mi ti andrò 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 Mi sono andrò Mi andrò Mi andrò Mi andrò Mi 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 andrò Mi andrò ciao tutti, lo fai te? si ciao a tutti grazie per i soldi Matteo ciao a tutti oh ma dai no io non lo prendo dalla o dentro la lava poi spostate ma come fai? ma a te! cioè te salvi i cerchi ti salvavi da sto coglione e vedo i soldi guarda manco me io so io no no Matteo manco me rianimo oh c'ho zomigliero? no meno male aiuto no mi ha finita ma adesso son lanciare granate ma no la rica sta abbastanza oh cado ok vado a far subito gasta non ne voglio prendermi invece vado prima io non devo a sto punto cambio la pista no vado prima io veramente con cecchino non faccio nulla no perchè male qualcuno ah c'è sta ok mia questa è mia bich che palle bich vado per schifo no non è la mia sicuramente bich che è la mia? no non è la mia è la mia io lo so lui indovina un po ha ahahahahahah oh so io so che è l'arma ok morto no non è morto? sta laggando un po' eh ve lo dico da poco oh porco due no ma non sta la gamma più fluido il piccicolo la velocissimo oh ma affanculo ma perchè mandi affanculo a gente random i zombie random i zombie random la secca stasura e poi stessa la parodia all'akbar e la rivisitazione del bai matteo la parodia remix la puzzano è il nome d'arte se per me Tim con la quanta gente oh mio dio oh mio dio mamma mia violenza qualcuno me l'ha uccisa qualcuno mi ha fatto assist perchè se no ci avrei devo 1200 e passa a tutti io vado a accettare a battecassa attenzioni eeeh un applauso un applauso a Edo perchè è il terzo olè che è successo scusate ah no ah wow che bello eh porco due c'è speso pure i soldi cioè questo è che bello no 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 me la verità ah te verità sennò sennò non bestemmi i peggio santi si è abbattato che è questo scusate che non mi ricordo la lapide che non me la porto via quella è non te la prende è inutile tipo no mi ricordo che faceva tipo quando uno muore tu decidevi se morì o no se morì al posto su uno del genere oh lei è grande che so qua non è buono m8a1 il taser elettrico che voglio si il taser ti sai il taser papone no perchè puoi fare il corpo vabbè si dice che cazzata che ho detto ora mi sto rendendo tutto mi sta la peggio gente qua non so se arrivi sto per là è appena da qui punti ringraziatemi ecco hanno segnato le ammere un cazzo vabbè 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 io ho detto meglio i giuracci dopo che finisce i partiti ma che stanno ah ok oh zombie chi è morto riga guardo Matteo vado a fa un po' di soldi eh grazie ma non stava la gamma è niente questo si sta fa tanto guarda se mi muro pure io grazie io sto vicino a te eccomi ma se morimo tutti e continuano dopo e tagli si se morimo tutti ma che taglio sto pezzo no quello in cui Edoardo si ne va ha detto che non monto ah ok ma questo è morto no io no ah ok questa non è una semiautomatico questa è è una manuale come si faceva a cambiarla con triangolo chi è che muore in continuazione vabbè io io mi faccio i soldi ok cicchino dai cicchino voglio andare in canno cicchini che cazzo ciao vedo fa uscire la partita e tu dici e lasciare in eredità noi no lasciare in eredità purtroppo no non muore gravi big money prendere vabbè punti a testo non so punti a sommo puoi sparare in mezzo ma anche se vado a giambano ciao 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 sto proteggendo edo io carpintiero oh ma mi rendete conto c'è i proghi ma che stavi a vabbè ciao ciao ti copro io alle spalle ti copro alle spalle guarda qua la peggio gente guarda fammi caricare gribbio perché guarda questa perché mi siamo ma non posso morire per fuoco su ok la peggio gente io te ne sono uscito di nuovo no granate finite io mi butto ciao ad appia i soldi ad appia i soldi eh buttate faccio guarda la gente ti dirò di me non lo so immaginate che ci sta ecco guarda come mori siamo tutti e tre morti no daniel dipendiamo sono morto ancora non sono morto ancora mi salvo il culo mi salvo mi salvo mi salvo mi salvo il culo reagan salva mamme pure cioè io sto andando avanti con matteo con edoardo grazie a matteo per la reagan eh edoardo perché ti ho rivivuto esame se vabbè chi cazzo sono non posso mettere giocando con tu troller ci sto capendo niente perché edo perché questo mi sta correndo addosso salvi mamma mia dove lo porto edo hai messo il culo per la realtà per un canale non c'è un punto della mappa dove si salva non lo so la casa è tutta vero ma ora si porta un punto insieme a te e lo puoi salvare c'è nessun per un po' le armi ahaha eh vabbè giustamente pure comando st la cassa adesso e sta non posso un po' ma col tempo vicino io per ora non uso la vita dai su ma mori sempre ma l'ha detto non mi piace sto gioco mi finiscono uno eh questo non ci sono abituato a giocarci proprio perché non ci stanno gli zombie a lungo forse sta ammazzando edoardo io l'ho detto perché ci stanno i zombie qua in là come edoardo sta a morire eh sì perché dove è dove è eh sta l'ho lasciato non ho potuto l'ho lasciato ho aperto la porta ecco una porta che non si è l'ho lasciato qual è il miglior modo che lo sai punti no lo salvato io lo stavo a salvare vabbè in casi come questi ragazzi caputana ehm qual è la situazione no cambia ciao ciao meno mani modatto di morire l'ho salvato mannaggia al lag chi è il 3 edoardo no 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 rega io così ci moro io vieni alla cassa con me eh vieni alla cassa lo sai però aspetta c'era giù ci lascia le penne guardo facciamo sta venendo pure io Daniel sta venendo pure io guarda questa mannaggia ma te che apri le cose inutili mica mori ho 40 colpi dei regali no te non devo oddio quello senza gambe era rimasto non è che c'è stanno oh il fuoco il fuoco mi bruciano le ghiappe ah io so andrei a proteggere non è che c'è aspetta oddio adesso sto dio chi è il 4 eh matteo ho appena ci sono qualcosa sto capendo una belata minchia ora tiè ti è ucciso solte gambe mona cos'è adesso sto oh all'istante baciatemi ah ok io lo sparo 40 colpi ok c'è io sto a fare peggio punti si ha preso eduardo grande grande senti ok ma ho lanciato una granada random ok pieno carico ragazzi lo sai che vuoi pieno carico ci siamo guardati il culo perché mi stai sparando non lo so posso rifare cassa oh il taser vai col taser aspetta dove stai la cassa qua veramente guarda andrei eh ma dove stai la cassa scusa 6 mila mi esplosi in faccia vai col e guarda è finito il round e ora è iniziato e adoro e andrei si adesso hai iniziato ma dove stai scusa la cassa andrei ancora non non io direi la cassa alla cassa andiamo alla cassa no io la trovo lo so dove no dove lo so stanno bam bam vai distrutto questo esplode non va bene ma io sto andando alla cassa mi stanno uccidendo Edoardo ok mi hanno ucciso eh che cazzo no andrea cosa stai aspettando no vabbè ma tutti sono morti non me lo vedi lasciando aspetta mi giro e te aiuto cioè quello che posso vai vabbè 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 ma sei a sparare a te sì sì lo spara io vai davanti a te ce sto a pensare io vai 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 grande 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 ritorniamo indietro ritorniamo indietro sti cazzi ritorni indietro l'altro non li salvi ah non li salvini io cammino stai sciato oh pure un pulito granata non hai ammazzato nessuno con la granata andrea eh va come sempre è inutile mori mori morto guarda qua no non ci capisco più nulla anche io oddio ci sono andato addosso cioè sto a fare più kill e voi fermi tutti andrei sono cascato sono morto no 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 aspettate aspetti quale sono il quattro non possiamo morire così non possiamo morire così aiutami sparami qualcuno sparami qualcuno è sparato vai 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 altro po' spai 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 scusa te sei quello davanti dietro di me vedi? si eh si le storie anima e mi stanno uccide aspetta no 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 tranquillo vai ok che morte vabbè 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 siamo morti molto male